Ciao Silvia, vediamo un po' come possiamo aiutarti. Allora, questo è un francobollo francese, dalle 12 franchi, direi anche un po' ingiallito. Allora, procediamo in questa maniera, andiamo su Stamp World, selezioniamo Catalogo, selezioniamo il paese, in questo caso Francia, mettiamo, clicchiamo Francia, perché non è un'altra delle altre opzioni, poi qui sotto, qui sotto, mettiamo la valuta, no, direi andiamo con il valore facciale, che è da 12, da 12 franchi, 12 franchi, ok, facciamo ricerca e qua vi vengono fuori tutti i francobolli, scorriamo, scorriamo, rinfreschiamoci la memoria, è questo qua, con scritto Quimper, Quimper, l'anno non si vede scritto dalla foto, però non si dovrebbe trovare velocemente, non è difficile cercarli, vedi, Quimper, eccolo qua, valore 25 centesimi, se abbiamo messo due minuti a trovarlo, buona giornata.